Senti, la cosa che ha preso di governo sui novità sull'effettivo ingresso alla Bostariello per più pagare... No, no, stiamo lavorando, magari facciamo un punto tra oggi e domani, perché stamattina c'è una riunione importante a Roma che sta tenendo il capo di gabinetto a Uricchio anche con la difesa, insomma sta andando tutto per gli impegni che abbiamo preso, cioè non c'è nessun cambiamento da parte nostra, quindi nomiano, si temporaneità, insomma quello che siamo già detti, là stiamo lavorando con la massima accelerazione possibile, il Comune, devo dire la verità, tra le tante situazioni complicate come vedete sta sul pezzo, su tutto e stiamo cercando di lavorare nel miglior modo possibile anche in un contesto ambientale, nazionale, non dei più favoribili.